se ti dovessi chiedere di consigliare diciamo questo posto io lo consiglierei al mille per cento nel senso sia come ripeto servizi spiaggia bambini eccetera ma anche io come albergo e ripeto dopo sei anni ancora veniamo sempre qua cerchiamo di venire sempre sempre qua non so anche questa questa settimana glielo detto all'ultimo non ci fosse stato un posto cioè mi trovavo un po' piazzata capito perché non sapevo dicevo è l'abitudine cioè conosci il posto conosci l'albergo anche ormai esatto quindi ti trovi bene anche scambiare due chiacchiere dopo un po' cioè ti fa piacere anche quello non solo salve buongiorno cioè anche poi adesso sono rimasta amica della ragazza che avevano ai tempi ancora loro adesso sono rimasta amica ci troviamo quando vengo qua usciamo anche lei con un bambino quindi gli ho detto verrò a ritrovarti quest'inverno così detto quest'inverno vedi rimini d'inverno brava e poi vedo l'entroterra mi raccomando devi andare a vedere l'entroterra devi andare a vedere il centro storico vediamo di... beh ogni sì ma ogni mese è perfetto vedrò qua la spiaggia d'inverno che ha il suo fascino non l'hai mai vista ma fidati al suo fascino il mare d'inverno andiamo a ottobre a vederlo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti